In Giappone aumenta il numero delle persone a cui piace l'abbinamento della cucina giapponese con il vino italiano. Per godere della cucina giapponese che ha una lunga storia la migliore scelta è abbinare con i vini italiani che hanno tante varietà. I vini piemontesi sono amati dai morti giapponesi da tanti anni. Vorrei parlare della mia esperienza e come deve abbinare amabili vini piemontesi con la cucina giapponese. Lunedì 26 dalle 16 alla terrazza, cucina giapponese e vini piemontesi, matrimonio tra le due culture enogastronomiche di eccellenza. Lunedì 26 dalle 16 alla terrazza, cucina giapponese e vini piemontesi, matrimonio tra le due culture